Da non mi spesso è solo memoria, ma di storia del mercato. Va bene, di nuovo tra i miei prodotti che è bravissimo che ho scoperto qualcosa di... Questo fa parte di uno spettacolo teatrale che noi abbiamo creato tra monologhi e intermezzi di musica popolare. Che portare in giro. Che portare in giro dura quasi due ore. Ah, beh, è una monologia che potremmo proporre. Molto particolare, al taglio prettamente antropologico. Anche in giro, come stiamo anche a parlare. E comunque, sarà un altro monologo sempre su Fra Diablo. Stiamo comandando Fra Diablo in chiesa. Però, bene. Prego. Fra Diablo. Fra Diablo. Fra Diablo. Esatto. Se finì, frere Diablo, dommagio. Ascima l'intus francese. Loro vanno a riuscire. Che sa dire a dire? È finita Fra Diablo. Mi dispiace. Mi dispiace. A esse mi dispiace. I suoi segreti. Tutti quelli che sono fatti passare. Sette anni fa. Eppure stavolta. Mica c'è niente tanta licea. L'altra volta si è venuta a scappare. Stavolta è venuta. Alla fine hanno vinciuto. Però, non è che hanno vinciuto da un'altra faccia. Alla fine l'hai già fatto. Che sei? Che oggi, 11 novembre 1806, è arrivata l'ora mia. Loro che la piazza, già mi aspetta di trappucca. Che te ne sa dici? Te ne sa dici, ragazzi. Non me ne frega niente. Ma ne vedi. A chi ti piace questo? A nessuno ti piace questo. Manca a me. Ma quando tocca, tocca. La cosa che veramente mi dispiace a tutti e a tutte è che la sua moglie ma i tuoi figli piccoli. Però, se il patate non vuoi uscire, si è fatta la volontà sia. Tanto alla fine si sa che a chi non c'è stancio sempre. Se la moglie ma i tuoi figli tieni a campare, campano o con me o senza me. La cosa che mi dà fastidio è tutta la cerimonia che fanno. Potevano fare cose specie. Noi siamo gente di quello. La scopettata è finita tutto. E no. Il quadro è arrivato. Chi ti confessa? È arrivato il confessore. Mi sono confessato. Poi si è vissi a parlare. Gli sono cercato di ammbracciare gli capi dei ghiacchioli ma mi sa che chi non c'è capito niente. Tanto chissà è una che accompagna il dannato per me stile. o sono fra diavolo o sono il signor francesco visto è la stessa cosa. Ehi che alla fine mi chiamo Michele e Arcangelo Pezza e sono addirittura Luca de Cassano per tutti quanti vogliono essere fra diavolo. Io sono stato fra diavolo tutta la vita e sono fra diavolo pure molto. Punto di morte. Sovite contro i francesi io sono con niente ne sono fatta. Ora mi hanno fatto pure la proposta di passare a chi che stesse grado che teneva grado del colonnello. Sono detto no io mi sono quando hai fatto il giuramento ed hai rispettato fino alla fine. Yes oggi che sei? Mi hanno portato alla messa mi sono fatto la comunione e ora usciamo dalla chiesa e si vede già i trabucoli che ballano tutta la gente che mi chiami chi può toccare si sente pure che la scompettata lontana chi strilla chi cosa state calma mi sono detto state calma e pensate buono a quello che teneva da fare io la mia lo so fatto ora mi ne voglio e voi teneva continuare ma teneva sapere bene quello che teneva da fare ci fu 11 novembre 1806 siamo retta Michele Arcangelo Pezza duca di Cassano ma fra diavolo non c'è muore tanto è vero che chi riducente hanno roba ancora stanno a parlare di essi perché alla fine fra diavolo siamo noi quello che siamo capace di fare quando ci mettiamo ci impegniamo e lo facciamo fino alla fine fra diavolo siamo noi insieme a noi pure quello che siamo fatti nel 1799 ancora esiste comparte rende annuia nascosta ancora c'è stato e ricordate chi lo può ascoltare il 1799 o ve lo fa ricordare in un'altra maniera non lo vuole bene il testo il testo è a un prezzo però noi quando andiamo in terra di lavoro nei convegni lo presentiamo sempre a 12 euro perché perché giusto sia così fra noi non possiamo fare speculazioni quindi siamo in casa in terra di lavoro e sono totalmente legati quindi anche Rocco Romano come vi ho fatto a Cello la stessa sola ai suoi faremo anche grazie scusate la lingua la borina però la capiamo tutti perché all'inizio qualcuno chissà se capiamo qualcosa che parlesano questa è la lingua la borina che è la lingua artino credo che si capisca per voi ed è bellissimo e sono dei monologhi interessanti questo è dedicato purtroppo anzi dico ai giovani parlate là in casa in famiglia con la vostra lingua dovete sapere l'italiano ma anche questo che si capisca 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 è l'attuale ma che si capisca parliamo attualmente quindi voglio dire questo però adesso ovviamente diamo la parola a Fernando Riccardi uno storico membro della società di storia base di Napoli di terra di lavoro e ci mostrerà i fatti della città di Napoli e di terra di lavoro e soprattutto di Ruffo che è del Duga di Rocca Romana Lucio Caraccio grazie 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 voglio ringraziare l'amministrazione locale di Rocca Romana il sindaco di Nicola Veloce ci siamo conosciuti già in qualche tempo al volo di Ramoscavina è un solo il modo che conduce i fattori in maniera precisa e puntuale e soprattutto tutti quanti voi se il confeduto è stato un tempo poco prevedente perché questa nostra provincia ma non solo se la nostra provincia lo sappiamo no è tragellata da dal buio di tutte le prevenze ma anche Patera forse di Patera se ne trova ma poi io non è solo ma lasciamo se noi pensiamo che Patera è l'ultima provincia di Tampoli da una stazione che poi ha ci arriva il treno questo ringrazio proprio Santarelli perché se in questi gesti 1799 sono conosciuti ormai un po' di più è proprio grazie al suo impegno e all'implio della societazione agli sketch che sono sempre molto puntuali che inquadrano che cercheremo di tratteggiare quindi questo effetto sarà diviso in due parti la pianta un po' più corposa usano sempre di che devo ottenutere qui a mezzavotte andremo e poi l'ultimo oggi ho perso di Davo per levo proprio con Luca di Rocca Claudio già ha introdotto l'argomento i francesi di apoleonici giacobini vengono in Italia del dettativo di impossessarsi delle ricchezze e di questo territorio ferro che era l'isola dal d'or dal sotto e quindi occupano in Italia vengono in Italia delle biblioteche fantocce di spadale di Sanpina che abbiamo delle scienze storiche delle medie delle scuole poi occupa il Ducati del locale centrale poi lo stato della chiesa e quindi dovrebbe passare a occupare il regno di Davoli giunto a Rosso però si ferma perché si ferma si ferma perché l'esercito Napoleone che era invitato da un generale giovane ma Valesce si ferma si ferma a Roma perché non aveva le truppe necessarie per affrontare tutto che si ritenia fosse un colpito continuare a questo punto il re di di Davoli che era Ferdiato IV di Bordogne decide di come dire di precorre gli eventi per l'invasione del regno arma il suo esercito e va all'assalto dei francesi e giacobini che stavano a Roma perché voleva restituire lo stato contribuito al suo legittimo governante che era il mare arma questo esercito abbastanza numeroso contro 45 mila uomini ha però il torto di affidarlo alla persona sbagliata e qui diciamo che i polvori se vuole dire le scelte di strategia militare di individuazione di campi militari non sono molto fortunali perché scelgono come i comandanti in campo un generale austriaco dal congione altisolante con Kahnbach Fonnie Bank già a sentire il dopo il film di Fattossi effettivamente non era una figura fattossiata questo Kahnbach perché era un grande esperto un grande teologo della Aspenna che aveva però l'unico vero che aveva combattuto la battaglia aveva soltanto studiato la guerra teoricamente ma non si era mai scelettato sul campo di battaglia fatto sta che nel dicembre 1798 l'armada napoleonica passa in confine o tre massi uniti si introduce lo stato condiviso i francesi che erano in un numero infericamente minore si ritirano a nord di Roma ma anche e lo stesso dobrato che erano a quadro entrano normalmente a quadro e qui comincia di quadro che lui aveva diviso in tre colombe il suo esercito Chateau che invece l'arte di un dà e la vocea proprio sul campo sconfigge proprio approfittando di questa divisione eccessiva dell'esercito napoletano sconfigge a più riprese a nord di Roma l'esercito napoletano che improvvisamente si rompe e si dà avanti si dà l'acqua torna dietro verso il liri e contremassa il confine e gettano gli armamenti nel fluo per ritirarsi verso campo dove speravano di andare a questa avanzata praticamente l'esercito sconfigge a questo caro l'acqua non dà una grande prova di sé l'esercito referario parco il sentendo si pericolo e rappresentato dalle chimiche polarchia borbottica decide improvvisamente di andare di ridugiarsi a Palermo e quindi attraverso l'amiraglio d'Elsson viene con tutta la principessa con la regina e si ridugia a Palermo lasciando il regno di Napoli ad un vicario generale era un tal pigliarelli in quale pigliarelli fa una cosa ancora peggiore perché il 11 dicembre a spara di seguiti qui vicino stipula un armistizio del frattempo che è superato San Giambato da Sile marciato verso Carro un armistizio che praticamente consegna il regno di Napoli ai Francesi e qui poi avrà una grande parte di Roma di Roccarovana poi lo vedremo costruzivamente dopo un paio di giorni siccome le clausole di Castizia erano parte di Omerose anche a livello di contribuzioni e qui i francesi erano paesi di contribuzione la venerata Pazia di Monte Cassino che passavano tanto in tanto perché Giacobini avanzavano come le popolazioni in barbano ogni generale aveva il suo reggimento che aveva proprio così e quindi quello che veniva dopo andava sempre a chiedere a bussare soldi incuranti di quello che aveva fatto il precedente fatto sta che quando il governo napoletale non riesce a utemperare le clausole l'armistiziale Jean-Claude prende l'arma il destro per rompere l'armistizia e di procedere alla conquista di Dammu ormai la punizione non c'era più il padre Volano non c'era più andato dalle porte di Dammu però alla sfortunata di battersi contro i mazzini lazza piena ma era un po' buio di Dammu che in mancanza dell'esempio regolato che aveva preso le difese della monarchia della città di Dammu combattono per due giorni una lotta più lentissima tra un po' della Pantene a Porta Capuano cadono in oltre 10 mila i lazzari e saranno erugiati allo stesso Giampio che evolge allo stesso Chiebono che evolge a questi generali francesi evolge a questi lazzari che combattivano come fossero degli apri come fossero i demoniati quanto sta però dopo un paio di giorni all'esistenza di questi oerenti che cavano a decine di miliardi proprio quei mostri che hanno vita viene superato e certo tempo entrare a Dammu il giorno prima questo è un caglio in 23 se lo fate in un giorno prima in quegli due cittadini un gruppo di cosiddetti patrioti da Pantene sentendosi ormai assicurati perché le tupbe francesi erano proprio le porti in Dammu proclamano la Repubblica da Pantene una e di Pantene il primo presidente purtroppo dico io fu un nostro conterrato Carlo L'Olambo e che era Teano quindi qua proprio tra le altre cose questi patrioti da Pantene si macchierano anche in Lonta che è quella di sparare da Forte Sant'Eno dal Castello del Loco di sparare da Caponate sui Lanza che resistevano e cercavano di impedire la resistenza con il passaggio dei francesi nel frattempo Napoli diventa Repubblicana e nel frattempo in Sicilia si pensava come arginare questa marea montante dei Giacobini che si credeva che dopo aver conquistato il regno in vacanza più la resistenza più o meno si potesse arrivare anche in Sicilia per mettere fine proprio alla di Castello e mentre il re per di anno 4 la regina Maria Camonina assieme ad acto cercava di mudire le coste della Sicilia per impedire che Giacobini potessero arrivare a Conti a Palermo si presenta uno strato personale di grosso vestito che era un candidato di ecco perché di grosso vestito perché era un candidato di Santa Romagna che si chiamava Fabrizio era un candidato che si era molto distinto degli anni precedenti sia a servizio di Fabio Sesto a Roma per esempio non tutti sanno che il candidato Ruffo fu il primo che iniziò il discorso della politica delle parole bottine che poi verrà portato a termine dai demoni fascisti era una persona non era quella leggenda nera che viene descritta nei libri di storia non era un piatto non era un uomo in cardedossa forse più portato per gli affari di governo e forse militari che non per quelli della cura delle acque però questo è un altro ragionamento fatto stare che questo cardeale Ruffo che in Calabria aveva molta sceltezza anche per mezzo della sua famiglia della famiglia molto potente la famiglia calabrese propone alla corte reggia di dice perché dobbiamo aspettare che ci attacchi attacchiamo quindi gioca necessariamente all'attacco per usare un bel calcista inizialmente vede un grande scendicismo dice ma se tu hai andare all'attacco ma con quale esercito l'esercito non c'è più se non mi preoccupare io comincerò a maturare il mio esercito quasi verso d'arte cominciate perché vede in Calabria c'è un po' di scendicismo della corte soprattutto H la tendenza con quello di Buonocchio questo personaggio si è puntato un po' di fuggi dopo la pioggerella l'uotale alla fine soprattutto la regina Maria Carolina che qualche timore aveva dei Giacobini che non ci aveva dimenticare che in qualche atto aveva la sorella Maria Antonietta era stata migliorinata in Franca quindi deveva abbondantemente per il suo nome e quindi si è aggrappato un po' più le possibilità fatto stato e dopo pochi tentennamenti vede dati lui all'impresa di questo carriano poi lui si avvita da Palermo va vestita con al secolo cinque persone quindi non aveva né sanchi né soldi le armi ma soltanto cinque persone a vestire in barca dell'impresa altro paio o due tre persone tra voi questo proprio don Domenico Petro Casmi che era un dottore di Augusta che viene nominato in una stanza e convissario della spedizione del carriano dopo di che va in Calabria e si ferma sul suo medico e comincia ad accogliere soldati che vengono i montanti soldati più che altro uomini che vengono un po' da conto le parti e chi erano ex soldati dell'esercito smandati dell'esercito contadini braccianti agricoli quelli che lavoravano le terre su e nel frattempo riesce a costituire un primo nucleo di questo che poi sarà un esercito che qualcuno chiama l'esercito della Santa Fe e anche qui c'è una esattezza perché non è una questione di metanteria ma è una questione che la storia si fa con il bilaggino dove si può dire quindi si deve essere corretto lui chiama la sua arbra non armata della Santa Fe anche se è un termine molto abboggiato la chiama armata reale e cristiana se voi trovate i documenti di archivio non c'è mai il termine salmenista ma si chiama armata reale e cristiana così come non c'è stata mai una repubblica parte a domenica ma c'è stata una repubblica la repubblica questo ha gli storici più la sudati commentano parecchi di questi perché armata reale e cristiana per una ragione molto semplica reale si capisce perfettamente era l'armata di perdiato quarto di borbolo quindi rivolgeva dalla poarchia borbotica la legittimità dell'impresa cristiana e quindi la grande intuizione del candidato che sarà stato che sarà stato anche forse un leggero curatore di armi come dire quello che magari non mandava troppo la cura di armi però aveva una grande intelligenza qual è il messillo che avevano portato avanti Giacobini veniva in Italia che era un albero della libertà che cos'era un albero della libertà era una piatta di unico ma anche di peistri di barco a seconda di quello che si aveva il mondo che veniva messa al posto della croce al di sotto dell'albero della libertà perché questi erano discredenti arte di teatro di vetta al sotto l'albero della libertà ci si sposava si fiume di un matrimonio si panchettava si faceva amore si cantava ci si ubriacava e ora ruffo che cosa pensa io ne può contrapunto all'albero della libertà un simbolo pagato e un simbolo cristiano e un simbolo e un simbolo e se vi è imparato leggermente quando il cardinale ruffo capisce che lui deve intanzare i valori del cristianismo e da contrapporre a quello di un pagatissimo di fatto vinto che noi sappiamo benissimo le nostre terre la nostra gente la cultura religiosa profondissima delle nostre le nostre come fa un po' quello che tanto è vero che il peccopasico lo dice a un certo fa un po' quello che aveva fatto tanti anni prima del 312 avanti Cristo Costantino quando combattendo la battaglia di Conte Pino dopo Cristo combattendo la battaglia di Conte Pino contro Passenzio lì appare il sogno questa croce portata da due armi dove c'era di Conte Pino di Conte Pino quanto sta e poi Costantino che non era un cantopio cristiano era uno molto furbo capisce il vento dove tirava adotta l'implema di questa croce e sconvince Passenzio attivo il pagano proprio in un piano la spada la cattola Passenzio cosa fa il carriera nel frattempo la sua massa crescita il suo esercito crescita fino a raggiungere 20.000 quando raggiunge un numero accettabile di soldati o meglio dire di uomini perché non erano i soldati decido di partire siamo alla metà di Ferdinand e comincia questa cavalcata verso una cavalcata che ha delle battaglie arresti che per sempre ad Alta Mura combatte duramente ad Andrea combatte duramente riesce però sempre ad andare avanti e da sconfiggere il nemico il nemico di Giacombino e fatto anche da collaborazioni stivocati perché c'era stata una parte della conquistata e piccola che si era aveva sposato queste idee come dice Claudio di luministe e di provvedere di contratti riesce però sempre a sconfiggere i tentativi di blocco perché questi volentieri i nemici quelli che erano i nemici passano da quelle tre schiere quindi abbattose il campo Giacombino e passano da quello fatto sta che dopo aver superato anche parecchie di volontà logistiche perché quello del cardeale Ruffolo era un po' reprovviserio ma era un'armata un po' raccoglitigia fatta di corti fratti fatta di delle coschette gruppe a bassa che erano delle gruppe a cui è detto un grande come dire una grande viva che i coschetti tra virgolette imbrigati fratti anche sciarpa saloponte mazzadera proprio insomma erano molte persone che non erano militari professioni ma che in virtù del loro basurde che in virtù del loro del loro ardimento diciamo così erano riusciti a mettere insieme queste truppe a bassa questo corpo di volontà e poi con cui erano per l'armata chiamiamola San Fenista del cardeale fatto sta che il 13 di giugno 1799 l'armata del cardeale Ruffo arriva alle porte c'è una battaglia più lentissima al fondo della battaletta dove muove il generale Virzi che era il comandante dell'armata repubblicata uno che aveva fatto il salto della quaglia perché era il cordello dello Sergio Borbotti ma era passato a M. Tagani dell'armata repubblicata fatto sta che il 13 di giugno dopo aver sconfitto il repubblicato al fondo della battaletta il cardeale Ruffo fa l'ingresso l'ingresso in città e qui c'è una storiella curiosa sicuramente istituita di contamento però che mi piace sempre raccontare siccome il 13 giugno il giugno di Sant'Antonio e siccome quando arrivarono i francesi a Dato il 23 di gennaio la prima cosa che dice Jean-Pio De perché pur essendo un attimo conosceva riconosceva il valore della tradizione quindi si recò a San Gennaro e San Gennaro fece il miracolo quindi fischiò il sacro di San Gennaro lo rinamoletano sempre molto fermo di fantasia declassarono San Gennaro perché era fuori Giarrobino e Levano Sant'Antonio che era fatto il miracolo per restituire è una storia però fatto sta il 13 di giugno e infatti c'è la prima canzone che si piace il capo di San Felicino esistra proprio il 13 di giugno come giorno glorioso della riconquista di San Gennaro e tra i Napoli i castelli ancora sono remati dei francesi di San Martino e altri qualche decine i giorni dopo si riuscirà attraverso delle trattative a far sboggiare i francesi dai castelli quindi Tampoli che le conquistate e dopo il stesso re Ferdinando si trasferisce alla Sicilia però non qui a Tampoli perché ancora un po' bisogno e quindi si permanisca sui rami del Dexon il regno era stato conquistato Rufo aveva compiuto la sua di Raffolanti impresa di cui si parla poco di Dexler che Rufo è anche uno che appartiene ai presidenti la schiera di quelli della storia considerano gli sconfitti dei vertenti e questo si deve parlare a volte che fosse stato diversamente forse ricordate per andare io mi faccio soltanto un obbligito per farmi capire la differenza tra quello che succede da dove e quello che succede si parlava della Vandella io tre anni fa o forse quattro assieme a due amici devo andare a fare proprio un tour per le città di una Vandella così e sono rimasto veramente per amicare che viene in una in questa città simbola di una Vandella di questa resistenza per oggi di questo gelosidio che i Vandellani hanno perseguito proprio per essere profondamente attaccati alla Lucia ma è stato la città testa di La Roche e Jacques Ler che era uno dei capi Vandellani che era uno che era uno che era uno che era una maica la città che era una lunga Grazie a tutti.